Sare il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ad inaugurare sabato prossimo, 9 settembre, l'86esima edizione della Fira del Levante di Bari. Un cambio di programma rispetto a quanto comunicato alcuni giorni fa, quando era stata annunciata invece la presenza del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. A darne notizia, Palazzo Chigi, informando la nuova Fira del Levante, che il ministro Salvini è stato delegato a rappresentare la premier Giorgia Meloni in occasione dell'apertura della campionaria generale internazionale, in programma fino al 17 settembre, con il simbolico slogan La Forza del Levante. Il taglio del nastro si terrà alle 10.30 nel centro congressi del polo fieristico. Daranno il via all'inaugurazione il sindaco di Bari, Antonio De Caro, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, assieme al presidente dell'ente autonomo Fira del Levante, Pasquale Casillo, e al presidente della nuova Fira del Levante, Gaetano Frulli. Matteo Salvini chiuderà invece i lavori. Prenderanno parte alla cerimonia, inoltre, rappresentanti di governo, parlamentari, personalità estere delle nazioni presenti a questa edizione della campionaria e le massime autorità civili, militari e religiose del mezzogiorno. Come da programma, l'inaugurazione precederà l'apertura al pubblico della fiera, prevista sempre nella giornata di sabato, a partire dalle ore 14.